buongiorno 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 questo cazzo e perché così però subito a questi mattina tocca andare con il pranzo aziendale e resta fermo però c'è il pranzo aziendale c'è il pranzo sì sì e beh che c'è il pranzo basta che stai fermo ma quando ti fai un po' il tuo poltello è quella di ma chi? che questo è un filo della mignotta ma chi? ma questo cane ma che c'è un cane? che è? questo è un filo della mignotta ma ti fai un pazzà c'è il pranzo aziendale ah che seppia o no c'è il pranzo aziendale dai o no c'è il pranzo aziendale fermati siamo il pranzo ci restammo la scuccia la piccolo sei contento di sto pranzo aziendale? oh sì sì sono contento sei contento o no? però c'è una macchina dietro sei contento o no? guardate con me su sta cazzo ritardatario eccoci eccoci siamo bacia al nonno bacia 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 al nonno bacia 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 bac oggi proprio al completo nonna marie c'è fame? no no no? ma qui vediamo controlla il cincillà vediamo come si comporta ma la pressione del cincillà com'è? no perché siamo muoti ma un po' controlla il cincillà non ce la metti, non la bevo io ma lui vuole il vinello no, mi dici che bevi l'acqua no, tu non bevi l'acqua com'è Filipe? ma un brindisi per il pranzo aziendale di oggi pranzo aziendale, un brindisi, salute ma guarda quanto stia a mangiare o no? date una regolata no, io mangio e adesso vado vinto la mangiare no, le minacce no però ma se a te ti don't si vuole alla vostra Filipe, Arzuga? mamma mia, salto un fischio si? no, io no, grazie no, grazie anche la s... questa, levela no, eh, ma una benedizione, subito no, benedico, s'uomo e simpotentista e lo speccatore ma ignorum ah, ma... proverbio di Massimo Bolli, vai ma non è che ti trema il braccio? ah, dai, vuol dire il caffè che ti trema? ma trema il caffè? no, con occhio no è un pranzo aziendale, bisogna fare una certa plonda oh è un pranzo aziendale non è un pranzo aziendale ma vuol dire il caffè che quel che ci ha amato è il tiro, eh? adesso la fa ti voglio leggere il caffè ma tu a me non mi devo leggere niente ma non mi leggere mannaggia la... oh eh ah un passo a me lo avete? mette la vicenda a me e tu te l'hai bevuta e vino trai da quello che voi siete scolato voi oh no, ma te ti sei bevuto tutto? tutto? tutto te lo sei bevuto? tutto? se l'hai bevuto tutta... oh, tu a me mi ha dato mi vuoi cercare di prima stiamo per rilanciare una cosa bellissima il... tiratatitti 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 eh 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 che bei posti che bei posti mamma la nostra Umbria attaccati da che? da cazzo no ho 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 ho... o ho ho ho... donna Maria di Gire? eh che spettacolo questo è peggone con quello con quel che l'ha pagato ha cambiato il ticolo colore no l'accompagno perchè non trovo più la macchina donna ma vero no mi trovo più la macchina manca a dire che non si vede è vero che vero ecco è questa e anche bella colorata anche questa è andata anche questo pranzo aziendale è stato fatto è andato è andato bene si è buffato il ragazzo viva l'amicizia e le belle cose e le belle magnate che macchina che macchina ho bisogno di un weekend in famiglia e in amicizia cioè fantastico ragazzi lo auguro a tutti perché auguro a tutti di avere una famiglia splendida e degli amici fantastici questi sono degli ingredienti essenziali per vivere bene, per stare bene per essere sempre sorridenti per essere sempre felici alla fine basta poco ma quel poco è tanto quindi bene così un pigiamino ripigiamato topolato doppia ciabatta risciabattata che bello questa guarda Freddie Mercury uno speciale fantastico fanno il presepino mannaggia il presepio no non è mai ria sentito ma smettala smettagli di tutte se tronciate che per te veni tutte tronciate dopo una partita io fanno il presepio fammolo 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 e beh va là qua va più ai baracli dai fermano là fanno mannaggia fanno il presepio è levata di coglione poi ti voglio piare un pigiamino come questo guarda guarda si che il metto più sicuro dai metto il pigiamino si fermate porco ma se può mettere manco il presepio il presepio no il pigiamino no ma non si può mettere non si può mettere se fanno cucina la capola ma perché è affetto è affetto questo te dimostro affetto da te ti piace sono l'affettato